Guido Guidesi, avete in mano il documento di economia e finanza del governo, com'è questo documento per la Lega Nord? In questo documento ci sono scritte parole e cifre assolutamente non veritiere, tant'è che la situazione di questo documento è stata certificata da tutti quelli che abbiamo sentito in audizione alla Commissione Bilancio, le associazioni, le categorie degli artigiani, degli industriali, le Banca d'Italia, la Corte dei Conti, tutti quelli che sono arrivati hanno certificato la mancanza di copertura in questo documento. Siamo in attesa del decreto ufficiale, ma noi chiederemo questa sera al Ministro dell'Economia Padoan dove trovano realmente le coperture per dar vita a quella campagna elettorale che Matteo Renzi ha portato a Palazzo Chigi da quando si è insediato.